ciao ragazzi come state molti di voi avranno già letto ieri nella tab community del canale questo mio messaggio ed oggi sono qui per spiegarvi più nel dettaglio cosa è successo ve lo devo ieri pomeriggio ho caricato qui sul canale su addicted to tech un video riguardante l'auto evo 2 nuovo drone americano che nel mio video ho definito un drone fighissimo ma che ho sconsigliato per due motivi ovvero il primo il segnale radio non legale qui in europa e secondo per l'assistenza e la garanzia purtroppo ho peccato in presunzione e anche in superficialità non andando a informarmi a studiare meglio quale fosse la situazione di questo drone in europa e basandomi unicamente su quella che è stata l'esperienza di hotel con il suo precedente modello sempre qui in europa e su quelle che sono state le sue iniziali idee comunicazione a riguardo del secondo modello dandovi quindi delle informazioni non esatte errate ed ho potuto scoprire tutto ciò solo grazie a voi che nei commenti mi avete spiegato per bene la situazione ringrazio il mio iscritto gabi ma anche danilo di quadricottero news che in questo commento mi ha spiegato come l'autelivo 2 è stato pensato originariamente come drone fcc per poi cambiare in corsa le sue specifiche tecniche diventando un drone legale anche qui in europa mi scuso quindi con voi che mi seguite giornalmente dimostrandomi davvero tanto affetto non vi ringrazierò mai abbastanza per questo ma vi ho dato delle informazioni sbagliate perdonatevi e mi scuso anche con altri miei colleghi youtubers che si sono sentiti tirati in causa nel mio video di ieri anche se in realtà non ho fatto nessun riferimento specifico a nessuno youtube comunque è giusto scusarsi anche con loro specialmente se come in questo caso la reazione è stata davvero estrema sicuramente mi sarò meritato di essere definito un venditore di frutta e verdura e tra le righe un completo ignorante me lo merito ovviamente non vi faccio il nome di questo mio collega che ieri pubblico questo messaggio sul suo canale youtube e su tutti i suoi social per poi eliminarlo dopo alcune ore non vi faccio il suo nome perché sicuramente quel che mi ha detto me lo merito completamente e voglio davvero trarre insegnamento dal mio errore e dalle parole che mi sono state dette perché ragazzi io sono qui ma non sono assolutamente arrivato dove voglio arrivare io voglio continuare a crescere voglio continuare ad imparare perché questo youtube è un posto che ti offre davvero tantissime possibilità di crescita di confronto con altre persone ed è davvero bellissimo però lo sapete tutti il percorso di crescita è molto ripido e quando si sale si cade si può cadere facilmente ma bisogna sempre sapersi rialzare dalle proprie cadute e continuare a proseguire in salita fino ad arrivare al proprio obiettivo e io spero davvero di riuscirci grazie anche al vostro aiuto e al vostro affetto vi chiedo ancora scusa per il mio errore di ieri riguardante l'autelivo 2 che spero di poter recensirvi presto anche se il suo costo è un po alto ma cercherò di fare il possibile per recensirvelo ragazzi ve lo devo anche se sono molto curioso anche di provare i nuovi droni dj la nuova serie mavic pro che secondo me non verrà rilasciata tra tantissimo tempo secondo me ci sarà davvero una bella guerra tra autel e dj nel prossimo futuro detto questo vi chiedo nuovamente scusa e in caso ne abbiate ancora voglia continuate a seguire il mio canale il nostro canale perché questo è il canale di tutti perché parliamo cresciamo insieme a di una grande famiglia dal nome addicted to tech che non ho ancora imparato a pronunciare dopo due anni e spero di trovarvi ancora qui nel mio prossimo video e spero anche che questa storia questa brutta storia scaturita dal mio video di ieri quindi la colpa è totalmente mia si è davvero chiusa qui bene amici detto questo che dire vi auguro buone vacanze perché siamo nella settimana di ferragosto no o è la prossima non l'ho mai capito davvero comunque il mare qui ancora agitato da ieri in realtà non sei mai calmato non riesco nemmeno a volare perché c'è un vento davvero fortissimo e non voglio rischiare però buone vacanze a tutti buon volo a tutti buon divertimento e noi ci becchiamo al prossimo video sempre qui su addicts to vegetable tech scusatemi alla prossima ciao ragazzi ciao 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 ciao